Due marinai sono morti e altri tre sono andati per dispersi nella collisione avvenuta stamane ad alcune miglia da sciacca tra il rimorchiatore italiano Agip Murex e la nave egiziana Alambra. L'equipaggio dell'Agip Murex, che era partito da Siracusa diretto verso la nave Agip Milano, a 57 km a sud di Marsala, era composto da altri sette marinai. I sette sono stati tratti in salvo dalla stessa Alambra e trasportati nel porto di Trapani. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.